Calvignano è un piccolo borgo medievale in provincia di Pavia, in Lombardia, situato nel territorio dell'oltrepò pavese. È situato su un poggio collinare tra Casteggio e Montalto Pavese presso il Monte Ceresino, con le sue frazioni distribuite su dolci colline contornate da numerosi vigneti che ne delineano il paesaggio. Calvignano è noto fin dal 1111. Apparteneva al priorato Cluniacense di San Maiolo di Pavia, che lo infeudò ai San Nazaro, dai quali passò nel 1371 ai Bottigella. Il piccolo feudo si mantenne sempre autonomo rispetto ai vasti feudi vicini come Casteggio, Montalto e Fortunago. Estinti Bottigella, nel 1690, esso fu venduto ai conti fantoni di Pavia. Il castello di Calvignano domina su un poggio e precede il centro del paese. Negli anni Sessanta viene quasi completamente demolito. I suoi resti, inglobati da boschetto, delimitano un cortile dove era chiuso il pozzo, trasformato in esedra circolare. La costruzione già esisteva nel XII secolo. È di proprietà privata. Interessante è il complesso della chiesa di San Carlo. Venne ricostruita nel 1844 sui resti dell'antico edificio sacro, insieme alla casa parrocchiale e al cimitero. Nel 1860 furono aggiunti ai lati anche il municipio e la scuola. Questi edifici, con pianta speculare e la chiesa, formano la pianta U che delinea la piazza e lo spazio pubblico principale di Calvignano. La chiesa di San Carlo è in stile neoclassico ed ha una singola navata. Il municipio è stato recentemente restaurato e presenta all'interno ambienti eleganti. Da visitare è la Villa Travaglino. Si trova al centro di un grande complesso agricolo padronale verso il torrente Ghiara. Esiste anch'esso, dal XII secolo, come possesso del convento di San Maiolo di Pavia e dei nobili Bottigella. Nel XVII secolo viene trasformato nel complesso che vediamo oggi, costituito da una parte residenziale alla quale si allacciano abitazioni coloniche e rustici che danno forma ad un ampio cortile quadrilatero. L'edificio nobiliare racchiude un cortile interno. È dotata di un ampio parco retrostante. Il complesso è di proprietà privata e sede dell'azienda vitivinicola. Si possono visitare l'Enoteca, le splendide cantine storiche e l'antica ghiacciaia. Per terminare la visita turistica è consigliata una degustazione dei prelibati vini apprezzati a livello internazionale, accompagnati da salumi locali deliziosi. Grazie.